Quando io poi ho fatto tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per un riscatto nei confronti della vita e quindi oggi tutto quello che ho fatto non lo rinnego, ma mi fa dire che se vuoi, puoi. Puoi cambiare il tuo destino. Giorgette, grazie di averci accolto nella tua casa, che alla fine è casa. È la mia casa. Quanto repassi qua dentro? Abbastanza. Allora, conosciamoci, come ti dicevo, e voglio già dichiarare così non posso tirarmi indietro, che siccome tu vivi di colori, come mi hai detto, questo podcast voglio tenerlo a colori. Veramente? Giuro, sì. Grazie. No, bisogna essere coerenti. Siamo entrati con un'esplosione di colori, perché non godercelo? Partiamo un po' da lontano. Dove nasci? Un po' di infanzia? E che scuola hai fatto? Allora, io nasco a Vicenza. Ho sempre vissuto a Vicenza e che scuola ho fatto? Penso di aver fatto una scuola, ho scelto una scuola perché era l'unica scuola che mi portava via da casa. In che senso? Nel senso che io ho avuto una storia terrificante, un passato molto duro e difficile, fatto di violenze, abusi e molto altro. E quindi ho scelto una scuola, non come tutti i ragazzini scelgono una scuola perché vogliono fare quello nella vita, ma l'unica scuola che mi permetteva di stare via dal lunedì al venerdì. E quindi una scuola alberghiera. E' scappata. Sono scappata. Sempre qua? Vicenza? No, Castelfranco. Ok. Ho fatto questa scuola, non era il mio, infatti oggi non faccio questo, però è stata una scelta dovuta. Tu sei figlia unica? Sì, sono figlia unica e quindi studiavo via da casa e tornavo a casa solo il venerdì sera, il venerdì pomeriggio ed è stata la mia salvezza, quello che mi ha portato a salvarmi da una situazione molto difficile. Quando dormivi? Cioè, quando anderi fuori da casa e stavi lì tra settimane? Era una scuola, una scuola appunto alberghiera che aveva questo convitto, quindi tutte le persone che arrivavano da fuori avevano la possibilità di usufruire di questo dormitorio, chiamiamolo così. Io però ero vicina, però dopo sono stata di ricorda, sei andata in hotel qualche anno. Cioè, praticamente ero lì, di solito veniva utilizzato perché arrivava da lontano, quindi Castelfranco Veneto e qui nella zona, chi veniva dalla Lombardia piuttosto che dal Piemonte, io ero a mezz'ora, però ho scelto di stare lì. Quindi hai scelto per quel motivo lì? Sì. Che ricordi hai della scuola? Beh, guarda, ti dico, io ho pochissimi ricordi, nel senso che appunto ti dico, la mia infanzia e la mia adolescenza fino ai 16 anni sono stati sporcati da una vita molto difficile, molto dura, quindi non ho dei gran bei ricordi, sono ricordi di una ragazzina che cercava di mascherare e nascondere quello che poi era l'incubo che viveva, ecco, fondamentalmente. Quindi non me la sono goduta, diciamo che me la godo più adesso. Ok. E andando avanti, dopo scuola, primo lavoro? Lavori ne ho fatti tanti, mi sono dilettata in tantissime cose, ho fatto la gelataia, ho lavorato in scuola guida, ho fatto le pulizie, ho fatto l'acqua lunghe, quindi finita la scuola ho dovuto fare l'acqua lunghe perché vivevo in una casa famiglia. Ok. E quindi a 18 anni, ribelle come ero, avevo bisogno della mia indipendenza e sono andata a lavorare in una sala bingo. Ok. Quindi davo cartelline, pulività, un po' questo. E allo stesso tempo ho fatto per tanti anni la ballerina nei locali. Ok. Quindi lavoravo di giorno e di notte. E già vivi da sola? E' venuta a vivere da sola? A 18 anni, sì. E vivevo di micropisoli, li chiamavo io, quindi facevo questi micropisoli di un quarto d'ora. E power napping. Esatto. E lavoravo, 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 lavoravo sempre per avere indipendenza perché a 18 anni mi sono scontrata con un affitto, una macchina e tutto quello che compete. Ok. Però indietro, come ti ho detto, io quando vengo qui, non so, cioè sono venuto qui non sapendo la tua storia, ma immagino che tu l'abbia raccontata nel tuo libro un sacco di volte, no? Non vorrei tirare, farti domande per tirare fuori, non so, cose che strappano in reel, la visualizzazione, non mi frega, non mi rito cazzo, quindi mettiamo da parte questa roba qui. Però mi piacerebbe, siccome sento, sento le persone, no? Vorrei farti qualche domanda per andare un pochino più indietro, ma ti assicuro che la faccio solamente per conoscerti. Cioè non mi piace, se spingiamo la telecamera te la farei comunque. Io ti rispondo non per i like, ma perché se noi oggi riusciamo a dare il messaggio giusto, che ci guarda io sono contenta. Ma è quella la missione, anzi come ti dicevo prima, se sento che c'è una domanda che non devo fare o che non posso spingere mi fermo, ma voglio veramente di conoscerti, te lo assicuro. Poi se guardi altri podcast capirai un sacco di robe. Tornando all'infanzia, adesso noto un sorriso, è la maschera ovviamente che devi mettere, magari tornando indietro, ok. Ho detto infanzia brutta, ma cosa intendi per brutta? È presente quelle persone che nascono sfigate? Ecco, io sono nata sfigata. Quindi qualsiasi cosa di brutto, una persona può immaginare io l'ho vissuto. E la cosa più triste è che l'ho vissuta dentro le mura di casa. Tu sei entrato qui e hai detto questa è casa tua, sì, oggi questa è casa mia e dove vivevo io non era casa mia. Nasco da una madre che soffriva di bipolarismo, un soggetto borderline, molto violenta, molto cattiva. Nasco negli anni Ottanta, quindi una bambina nera in un contesto diverso da quello che è oggi. Ero l'unica bambina nera del mio quartiere, l'unica bambina nera della città, l'unica bambina nera a scuola, quindi subisco violenze costanti dai miei coetanei che non capiscono la differenza. Quindi stassi in testa, bastoni, picchiata, piuttosto che... I bambini sanno essere cattivi. I bambini sanno essere molto cattivi. E mia madre, che allo stesso tempo soffriva di questa malattia, quindi ho passato momenti chiusi dentro uno sgabuzzino con la paura di farmi la pipì addosso, perché poi le avrei prese sigarette spente addosso, piuttosto che... Ho subito tantissimo. Il problema più grave di tutta questa sofferenza, perché poi le violenze in famiglia le subiscono magari tante persone, era che io ero nera e quindi quando io raccontavo questa cosa, nessuno mi credeva. La cosa che mi ha salvato è che mia madre un giorno in preda a un raptus mi ha morso la schiena, mi ha strappato la carne, io ho ancora il segno, e hanno ricostruito il calco dei denti in ospedale, hanno capito che era stata lei. E da lì sono partite le procedure di tutela nei miei confronti. Quanti anni avevi? Avevo 15 anni. Quindi nel passato di tempo. Tanto tempo, ma io ho sempre cercato di chiedere aiuto, ho sempre cercato di... Il mio libro si chiama I lividi non hanno colore, perché non so se lo sai, ma sono una persona di scura, un livido non si vede. E quindi quando io andavo a scuola dicevo mia madre mi ha picchiato, mi ha spaccato le ossa, non si vedeva, nessuno lo vedeva. Non è vero, se non si vede non è vero. Non si vede, non è vero. E quindi ho passato tanti anni a cercare di chiedere aiuto, di urlare questa cosa, ma nessuno mi ha mai aspettato. Cioè, mi sembra una cosa talmente lontana il fatto che... Eh, perché erano altri anni. No, ma infatti... Ci siamo molto attenti a queste cose. Lo dicevi a scuola. Poi? Letterine di Babbo Natale. Babbo Natale ti chiedo per favore, puoi chiedere alla mia mamma di smettere di picchiarmi, di chiudermi nello sgabuzzino, di ferirmi, di spaccarmi le ossa. Sono letterine che le maestre leggono. Ok. Però poi non ce n'è. E ti dico, tutto è successo poi nel giorno nel quale io sono scappata di casa. Al tempo avevo un fidanzatino, che era il mio punto di selvezza. Quindi l'ho chiamato e gli ho detto, ti prego, vieni a prendermi. Lui è venuto a prendermi e mi ha portato in ospedale. Mi hanno... avevo 15 anni. Mi hanno ricoverato. E ricordo come se fosse oggi, il dottore mi ha detto, neanche un pugile dopo un incontro di boxe è ridotto come sei ridotta tu. Hanno fatto il calco dei denti. E da lì sono partite le procedure. Quindi la richiesta della caduta della patria potestà, piuttosto che l'affidamento in varie comunità, casa e famiglia e quant'altro. Quindi per quello ti dico che non sono mai stata una papà che si è goduta il suo momento. E il tuo papà? Eh lo so. Sei pronto? Mai. Sapevo non venivamo comunque. Mio papà non c'è mai stato. Mia madre mi ha raccontato... perché mia madre era due persone. Certo. Lucida. Lucida. Ok. Quindi mio padre è morto prima che io nascessi perché hanno litigato. Lui stava arrivando da noi per chiederle scuse ed è morto in questo incidente. Quindi io nasco, cresco e vivo con questa convinzione. Scrivo il mio libro. Mi chiama la casa editrice e mi dice Andiamo in pubblicazione? Sei convinta? Io dico sì. E c'è un articolo che parla di mio padre che dico appunto che... Io avevo avuto dei sentori nel tempo dove alcune persone rimaste in vita mi dicevano che lui in realtà c'era. Che lui esisteva, che lui era vivo. Ve lo giuro ho i brividi se ve lo racconto. Come hai fatto venire i brividi? Pubblichiamo il libro, do l'ok, metto giù il cellulare, spengo, apro Instagram e trovo un messaggio audio di una persona che parla mezza francese e mi dice Sono il tuo papà. Possiamo? Possiamo sentirci? Ho bisogno di parlare con te. Io mi ricordo non c'erano loro, c'erano altri ragazzi. Io dico oddio, ma veramente cosa succede? Quindi gli chiedo delle prove, lui mi manda delle prove, ho delle foto mie con la scrittura di mia madre, insomma tutto in insieme di cose. Lo trovo e facciamo la nostra prima videochiamata. Quindi ho trovato mio padre dopo 37 anni, avevo 37 anni come è successo qualche anno fa, in vita. E quindi ho scoperto che lui c'era. E grazie a lui ho dato… Ricostruito. Ricostruito. Fissiamo un appuntamento per vederci, decidiamo di trovarci. Lui, un uomo tra l'altro di Libreville in Gabon, Africa. Ok. Un avvocato, un uomo proprio di livello. Cioè lui è super villa, servitù. Cioè che poi uno dice, sai, magari mio padre è un scappestrato, non voglio neanche saperlo, magari non voglio ammazzare la gente. Invece era… parlava mille lingue, una persona coltissima, un uomo strepitoso. Quindi fissiamo. Covid. Muore. No. È morto. E quindi non ho avuto modo di… Neanche sentire l'odore della sua… Io volevo solo sentire l'odore della sua pelle. Non mi fregava niente di tutto il resto, il contesto, case, proprietà. Io non ho voluto niente da lui. Io volevo solo… Sì, questo. E invece lui è venuto a mancare per il Covid e quindi non sono riuscita a vederlo. Mi hai scoperto poi come mai non l'hai conosciuto? Mi ha dato le sue verità. Certo. Vabbè, ovvio che poi li hai tutte le interpretabili. Tutte cose interpretabili. Bravo. Ovviamente. Io credo che comunque quando tu hai un figlio non c'è scusa che tenga. Quindi io l'ho… Non l'ho… Mi hai ascoltato. L'ho ascoltato. Io ho una dote ed è quella della capacità di elaborare le cose e perdonare. Io ho perdonato mia madre per tutto quello che mi ha fatto. Se lei oggi scoprisse che è viva e viene qua, io l'abbraccerei. E le direi, ho capito, tante cose, l'abbraccerei. E la stessa cosa farei come il padre. Nonostante tutto io ho capito che quando tu sai perdonare una persona è l'unico modo per tirare una riga e dire ok… Ma è una capacità. Tu adesso mi piace la capacità di perdonare quindi poi ti senti bene con te stessa. Parlo di me. Io penso di avere questa capacità ma altre volte ho dimostrato di non averla. Quindi è molto difficile riuscire… Cioè parli tu che tu… 99% delle persone del mondo non perdonerebbero mai. Io per delle minchiate a volte non riesco a farlo. Quindi adesso con questa cosa mi farò due domande in più. Quindi sai quando prima ho letto dobbiamo dare un messaggio? Ma perdonare non è ok ti ho perdonato. Ma certo qualcosa di più profondo, parte da dentro, quello che è difficile. Dirlo riesco anche a dirlo. Ma poi dentro, la guerra che hai dentro, puoi dirlo ma se tu dici una cosa e non lo sei. O stai male o la gente se ne accorge. Dai non sei vero. Andiamo avanti nella tua vita. Fai tutta una serie di lavori. Facendo questi lavori… Quindi entri… Immagino lavori tanto giorno e notte… Perdi di vista anche te come persona. Cioè il tempo passa. Sì cosa? È volato il tempo. Ok. Tipo io mi sono addormentata avevo 18 anni. Lo so, lo so bene. Perché lo faccio nel mio mondo. Alzo la testa se mi passi tre anni. Dico cosa è successo. Ok. Ma in quel periodo in cui lavori di giorno, lavori di notte. Di notte fai la ballerina. Ok. In quel periodo di vita, se ti dovessi chiedere cosa hai imparato? Che se vuoi. Vuoi. Io ricordo come se fosse oggi il giorno che è morta mia madre. Mia madre è morta in modo terrificante perché è stata assassinata. Quindi ricordo quella sensazione di essere sola al mondo. È una sensazione difficile da provare. Tu ti senti che non c'è più niente e nessuno che fa parte di te. Quindi quando io poi ho fatto tutto quello che ho fatto. L'ho fatto per un riscatto nei confronti della vita. E quindi oggi tutto quello che io ho fatto non lo rinnego. Ma mi fa dire che se vuoi. Puoi. Puoi cambiare il tuo destino. Puoi cambiare la tua vita. Puoi cambiare qualsiasi cosa. Io. Grazie a tutto quello che ho fatto sono diventata quella che sono oggi. E quindi non rinnego niente. Neanche con le palline di gelato. Con le coni ogni giorno. E sono qua. Oggi lo dici con una maturità e con un sorriso. Ma se dovessi chiederti qual è il tuo stato emotivo in quel momento lì? Guarda. Ti dico questa cosa. Io oggi sono questa. Perché ho imparato una cosa importante. Che non bisogna mai essere incazzati con la vita. Io ho passato anni ad essere incazzata con la vita. Io ce l'avevo a morte. E più era arrabbiata e più avevo il nervoso. E più lei si accaniva con me. Quando io ho deciso di cambiare e imparare ad apprezzarla e a volerle bene. Lei ha imparato a volermi bene. Qual è stato lo switch? Lo switch è stato un libro. Io ho letto un libro che si chiama The Secret. Ok. Che se tu lo leggi così perché devi leggerlo. Si è carino. Un libretto carino. Io invece l'ho letto in maniera profonda. E ho cambiato la mia vita. Perché se tu guardi fuori da quella finestra. Io e te guardiamo insieme. Nessuno dei due vede la stessa cosa. Si chiama prospettiva. E io ho cambiato la mia prospettiva. E ho deciso di essere una persona positiva. E di attirare a me le cose belle. Tu sei incazzato. Attiri solo il male. Mi trovi perfettamente d'accordo. È un po' la mia filosofia di vita. Ed è bello. Quel libro è un libro che anche io ho letto. Ne ho fatto uno dei primi che mi ha svoltato la vita anche a me. E bisogna credo di essere d'accordo con me. Leggerlo anche nel momento giusto della tua vita. E poi non devi leggerlo. Devi farlo entrare dentro di te. Perché poi io ne ho parlato diverse volte anche sui miei canali social. E ci sono state molte persone che l'hanno acquistato. Mi hanno detto ma ci guadagni no? Io non ho capito. Cos'è? Come funziona? Devi essere il momento giusto. Lettura giusta. E non è neanche per tutti. Perché non devi dire ok pensi quella cosa diventi ricco. Che cazzo. Non stai capendo proprio il libro. No. Non stai capendo niente. E quello è stato uno dei click che poi ti ha fatto scattare la gratitudine. Magari ero già grata. Ti ha fatto scattare la visione del mondo diversa. E da lì cosa è cambiato nei tuoi atteggiamenti? Sono cambiata io. Sono cambiata io. Ma è cambiata anche la mia faccia. Ho cambiato fisionomia. Le mie amiche mi dicono ti sei rifatta. No. Io non ho fatto chirurgia perché odio la chirurgia. Ma io prima ero dura. Ho capito. Ho capito. Con tutti. Sempre. E non lo so. Mi sento un'altra persona. È tutta un'altra cosa. Però oggi mi rendo conto che quando ho a che fare con delle persone che non mi conoscono Dicono tu sei sempre felice. Come fai? Tu sei sempre allegra. Perché ho avuto tempo di essere incazzata con la vita. Ho avuto tempo. Adesso sto bene. Sì ma sono a posto. Hai fatto un percorso. Cioè hai fatto un percorso. Quindi se dovessi chiederti se tornassi indietro cambieresti qualcosa? No. Perché ti ha reso quella che sei? Certo. Perché uno dice se tornassi indietro cambiare qualcosa ma non sarei così. Guarda adesso ti dico una cosa. Io porto delle cicatrici sul mio corpo davvero importanti. Causate sempre da mia madre. E sono diventate tutti dei sorrisi. Credimi. Cioè è una cosa folle. Guarda. Smile. Guarda vedi questo. Lei mi ha tagliato con un coltello. Vedi che è? È uno smile. Mettici due occhietti. Qui uguale. Questa uguale. Guarda. Vedi? Se tu ci metti due occhietti sono dei sorrisi. Il tuo modo di vedere il mondo. Che il mondo non è quello che... Cioè il mondo non è quello che è ma è quello che tu vedi no? No. Le cose banali che in realtà sono vere. Il 90% è quello che... Di quello che succede è quello come tu lo vedi. Devi cambiare proprio il punto di vista. Siamo sulla stessa barca mi piace questa cosa qui. No ma lo sento. Ma da quando ti ho visto prima. Credo che le persone... Poi questo è il pazzo. Siano di energia. Sono di energia. E io ho avuto... Tu sei sicuro di non essere me? No? Non lo so. Mi sembra che sto parlando con me stessa tipo. Ma sai perché? Ti dico perché questa cosa qua. È una cosa che dico spesso perché voglio anche mandare un messaggio su questa cosa. Ho avuto una forte depressione qualche anno fa, no? Che ancora ad oggi c'è però. Ho avuto veramente grossa... Quindi pensieri, suicidi, cose brutte. Che in realtà ad oggi io ringrazio che mi sei venuta. Perché già avevo l'istinto di... Le persone mi piacciono, le capiscono, l'empatia, ognuno del suo punto di vista. Ma lì mi si è creata una sensibilità. Io penso di sentirle. E le persone mi sentono. Però quelle che hanno sofferto. Cioè più hanno sofferto... E più... E più è facile... E più vado d'accordo. E più... Mi piacciono. Più ci piacciono. Più sappiamo. Non c'è bisogno di parlare, no? Le senti. E credo che sia l'energia. Se hai fatto una guerra... Sono d'accordo. Vero? Ok. Hai detto da te che qualcosa in più di me hai... No, no. Sono d'accordo. 100%. E invece... Quando nasce questo mondo? Che vivi dentro? Quando l'hai tirata fuori? Allora... Io... Fondamentalmente... La mia vita... Quando usciamo... Poi ti faccio vedere una cosa lì fuori dalla porta. C'è uno scalatore, si chiama. Che mi ha regalato mio marito. E' un semplice ometto appeso a un filo, no? E la mia vita è sempre stata di su... Poi... Giù. Rovinosamente. Cioè... Alle stelle. Vita perfetta. Finanzata col calciatore. La brossetta giusta. La scarpa giusta. E poi... Sottoterra di nuovo. E la mia vita è sempre stata questo. Un giorno... In un momento di estrema povertà. Ma povertà vuol dire... Non avere i soldi per una scatoletta di tonno. Ok. Io bevevo... Mi ricordo come se fosse oggi... Caffè latte. Perché... Facevo le dosi. Il caffè... Una bustina di caffè... 90 centesimi. E il latte. Io vivevo di caffè latte. Ero magra impiccata. E non avevo neanche i soldi per campare. E il marito di una mia amica mi ha prestato un appartamento. Mi ha detto... Guarda... Ho una casa. Te la presto. Un attico mega. Bellissimo. Non avevo neanche i soldi per le bollette. Ok. E dormivo su questo materasso buttato per terra. Perché... Era vuota la casa. E... Un giorno... Mi preparo il mio caffè latte. Perché poi andavo a orari. Cioè avevo gli orari per nutrirmi. Perché la fama era tanta. Cammino. Inciampo. Il caffè latte finisce su questo muro perfetto bianco. Di questo attico meraviglioso. Disperata. Vado al brico. E compro un vasetto di colore bianco così. E inizio a colorare. Nella speranza che lui non si accorgesse. E dipingendo avevo una t-shirt. Si sporca di colore. Mi sto macchiata di colore. Non hai soldi. Quindi non è che fai lavatrici subito. Ho aspettato di accumulare un po' di cose per fare la lavatrice. Ho fatto la lavatrice. Non veniva via. Pubblico una foto su Facebook. Al tempo. Ti sto parlando di 15 anni fa. E la gente mi dice. Che figa. Wow. Che bella sta maglietta. Io non c'ho un euro. E quindi ho detto. Vabbè. Come faccio. Carina. Potrei rifarla. Quindi prendo. Avevo. Te lo giuro. 86 euro in conto. Ok. Prendo 50 euro di questi 86. Vado in un posto qui della zona. Compro due magliette. Quelli che fanno le stamperie tipo. Prendo due magliette terrificanti. Brico. Un vasetto di colore così. E metto il colore sopra. Pubblico la foto. E mi dicono. La voglio. Quindi dentro le mani ho detto. Cazzo. Adesso la vendo. Lo so che non si fa. Però l'ho fatto. Eh. Perché insomma. Vendo. Con quello che ho ricavato. Ne ho comprate quattro. E con quello che ho ricavato. Ne ho comprate ancora. Finché. Comincio a distribuire queste magliette. Mi fidanzo con un personaggio un po' noto. Perché comunque era una bella ragazza. Sfigata. Ma carina. A meno. Quello. Quello che ho messo. Carino. Quindi mi fidanzo con questa persona. Lui suonava nei locali. Mette una di queste magliette che faccio per lui. Tutti impazziti. Mi contatta un negozio. Tra l'altro ballerina. Quindi sempre in giro per locali. Sempre con le mie magliettine sporche di pittura. Mi contatta un negozio che è considerato uno dei key client in Italia. Che è un negozio bellissimo qui della zona. Che vende Gucci. Ok. Brand molto alti. E mi dice. Noi abbiamo visto la tua merce. Se puoi venire da noi. Vorremmo fare un ordine. Carino. Io ero in questo appartamento. Senza luce. Senza niente. Con questo matrasso a terra. Quindi. Ritorno in questo negozio. Compro un pacco di magliette. Le faccio un po' diverse. Mi presento da loro. Con un foglio a quadretti. Per fare questo ordine. Mi fanno l'ordine. E da lì è partito tutto. Mi chiamavano. Perché le magliette non erano pronte. Io facevo finta di essere un'altra persona. Sì. Buongiorno. Sono la segretaria dei gioccolizi. Prego mi dica. No l'ordine non è arrivato. Guardi adesso mi informo. Sento la logistica. Invece ero sempre io in questo appartamento. E da lì è partito. E ho creato. Che anno era? Ti chiedo perché ti faccio questa domanda. Due mila e dieci. Ok. Più o meno. Sì più o meno. Ti dito perché. Anch'io ho avuto un brand di vestiti. E anch'io facevo questa cosa qui. Ecco. Vedi. Visto che siamo una stessa persona. E' nata proprio così. E' nata proprio così. Mentre mi siano spoccati i jeans. No che figata. Zero euro bucati. Ma ti giuro. 3 euro e 14 sul conto. Sempre la stessa roba. Ero più ricca di te. Ti ripetite di me. E come. Un po' di stile. Più o meno. Ok. Ce l'avevo. Non ce l'ho. Come cazzo si fa? Ma. Mie magliette vecchie. Anch'io le facevo. Favo col taglierino. Le lanciavo. E ho cominciato poi a vedere. Ordini da tutta Italia. Però con altri amici. Siamo andati bene. Poi ci siamo divisi. Per finita lì. Ma anche io. Facevo. O i smalti. Io compravo i smalti. Non posso dire. Mi facevo rubare gli smalti. Però. Mi regalavano gli smalti. Cominciavo con lo smalto. Dario su questi. Che poi. Non è. Non è il prodotto giusto. Non lo so. Però andava. Vendevo. Prendevo. Senti che cosa. Perché dopo. In un altro progetto che ho lanciato. Io ero quello che. Lancio un progetto. 2004. No. Era la prima. Era il 2011. Forse. Magliette. Che cazzo mico. Siamo lì. 2013. 2013. Lancio questo progetto. Da zero. Su 300 mila euro. In sei mesi. Vendevo. Facevo amministrazione. Facevo tutto io. Non va questa roba. Sì. Adesso parlo. Però credo che. Bisogna avere l'attitudine. Per farlo. Perché poi. Le persone. Le si fanno fregare. Dalle seghe mentali. Non ce l'ho. Quindi non lo faccio. Non devi partire. Per essere perfetto. Parti e poi diventi perfetto. Sì. Secondo me è stato anche un istinto di sopravvivenza. Sai. Quando. Il bisogno. Il bisogno di. 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 Ma come sei arrivato a quel punto lì. Di essere a zero. Cioè. Nonostante tutti i lavori che facevi. Eh. Io lavoravo di notte. Lavoravo di giorno. Poi ho cominciato a fare l'impiegata in questa azienda multinazionale. Quindi di giorno impiegata e di notte ballavo. Ma di giorno prendevo 700 euro al mese. Da lì erano gli stipendi di una ragazzina. E di notte. Ti prendevi il centello. Vabbè. E. Pagare affitto. Pagare macchina. Finiva tutto. Poi ti ripeto. Ho conosciuto questo calciatore. Ho cambiato la vita. Ho aperto dei negozi. Ho fatto delle cose. Sì. E lui ha messo incinta la mia migliore amica. Quando siamo al. Quindi da lì. Esatto. Ho aperto tutto. Tra l'altro lui ha fatto dei movimenti molto brutti. Quindi mi ha rovinato la vita. Debiti a morire. Disastri. E quindi non avevo più niente. Ma oltre a non avere niente. Non avevo la possibilità neanche di avere niente. Perché carte di credito tolte. Un disastro. Io. Te lo dico a te in anteprima. Dopo esattamente tanti anni. Nel 2025. Finirò di pagare tutti i debiti di questa persona. E sarò finalmente una donna libera. E potrò finalmente fare tutto quello che voglio. Però sì. Mi sono rovinato la vita. Per amore. Perché poi ero amministratrice di tutto. Sì. Senza. Non firmi qua. Fai. Sei giorni. Ventanti. Quindi. Per quello sono caduta pesantemente. Perché sono uscita da casa che non avevo. Da forse peggio. Perché in quel momento stavi assaporando una vita diversa forse no? Tra soldi. Negozi. Più fama. Più riconoscimento. Pum. Torni giù. Torni giù. Peggio. Perché. Prima eri già zero. E adesso da su vai giù. Come prosegui poi? E poi di nuovo appunto grazie a queste magliette e a questo marchio. Torni un po' su. Conosco un gruppo di persone. Io ho un difetto perché mi fido sempre delle persone. Sono. Vedo sempre il bene. Ok? Vedo di queste persone. Poi facciamo il marchio. Apriamo un negozio a Verona. A parte. Corso Portoni Borsari. Cioè. Voglio dire. Una cosa importante. Mi rubano il marchio. No. Perché io non ho registrato. Ovviamente. E quindi mi ritrovo di nuovo a zero. Torno a casa con una valigetta e niente più. Chiamo un ex fidanzato. Perché poi in questa. Tutta questa storia fatta di complicanze. Ho sempre avuto delle persone che mi volevano bene comunque al mio fianco. Quindi chiamo. Mi dice. Guarda. Vieni pure a casa mia. Ti ospito per un periodo. E quindi da lì riparto da zero. Insieme a lui e a un altro amico. E creo un altro marchio. Solo te lo registri? Non lo registro. Non lo registro. Perché sono una cretina. E. E. È subentrata un'azienda importante. Che è entrata in questo marchio. E. Sono rimasta di nuovo a piedi. Certo. Sono perseverante. Sì. E. Quindi di nuovo riparti da zero. Ricomincia. E. Lì nel frattempo è arrivata Temptation. Quindi Temptation Island mi ha dato. Da un lato. La possibilità di essere più visibile. Quindi sai. Fare un lavoro sui social. Che ti permette magari un introito diverso. Dall'altro mi ha tolto completamente. Perché poi ero posizionata in negozi molto belli. E la gente diceva. Non voglio fidare l'immagine. Perché hai cercato di farlo? Temptation? Sì. Perché in realtà. Allora. È nata come un gioco. Ok. Sono onesta con te. Eravamo a cena con mia suocera. Che è una persona un po' particolare. Io gli dicevo. Sai che quest'anno andiamo a Temptation. Io Davide. No. Un giorno sono in ufficio. E con una mia ex collaboratrice. Mi dicevo. Dai mandiamo la candidatura. Proviamo. Mando. Mi hanno chiamato subito. Ed è stato tutto un tourbillon. Venite a Roma. Siamo andati a Roma. Ho visto il provino. Ho conosciuto a Maria. Finché ci siamo trovati. Che dovevamo partire. E Davide mi dice. Io non vado da nessuna parte. Tu sei pazza. Tu sei fuori di testa. E poi siamo partiti. E che ti devo dire. È nato così per gioco. Perché il rapporto. Soprattutto in te ne entri. In questo tourbillon. Non è uno scherzo. E siamo partiti. E purtroppo Temptation mi ha tolto tanto. Perché poi sono uscita malissimo da quel programma. E quindi tutti i negozi dicevano. Io non vendo il marchio. Certo. Qualcosa di trash. Piuttosto che lo sai. Quando sei posizionato. Sì. Sì. E quindi da lì ho di nuovo. Ho dovuto ripartire da capo. Proia. E ho creato. Un nuovo marchio. Che è quello che tu vedi oggi. Che porta il mio nome. Che hai registrato. Adesso sì. E entro in fusione. Una fusione societaria con una multinazionale. Molto molto grossa. Che detiene brand veramente importanti. Faccio un colloquio con loro. E dicono ok entriamo in società. Ci crediamo. Quindi io ero in questa azienda. A mille piani. Con la gente che mi seguiva. E dicevo. Voglio una tiscia in cotone. Mi sentivo tipo il diavolo. Per la prima volta in vita. C'è un euro. Però. Mi faceva un po' figa sta cosa. Cosa hanno visto in te? Non lo so. Hanno visto qualcosa. Boh. Forse la possibilità di fare qualcosa di speciale. Ma. È finita anche lì. Dopo un anno. Mi hanno detto che. Il mio progetto. Era un progetto fallimentare. che non sarei andato da nessuna parte. Che i risultati non c'erano. E che quindi dovevamo salutarci. E che se rivolevo. Tutto ciò che era mio. Quindi il mio nome. Dovevo pagare. Io sono uscita da lì. Sono onesta. Avevo. Undicimila euro. In conto. Ricchissima. Lì poi. Il livello era altissimo. E loro mi dicono. Che volevano. Undicimila e novecento euro. Solo per il marchio. Simpatici. E. Io ho guardato Davide. E ho detto. Sai che c'è? Sono rimasta tante volte senza niente. Faccio lì. Gli do tutto. Sono rimasta con mille euro. Scarsi. In conto corrente. E lui mi ha detto. Ho un posto. Mio papà faceva le fibbie d'oro. Vicino a casa mia. Vuoi vederlo? E siamo venuti qui. Sono venuta qui. Ho aperto la porta. Era chiuso da 42 anni. C'erano topi. Ragniaccele. Lo schifo. Ho preso una scopa. Ho pianto tanto. Ho iniziato a pulire. 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 E sono partita. E oggi. Questa è la mia realtà. La mia soddisfazione. Ho delle persone che lavorano per me. Quindi. Quanto è stato importante l'amore. In quel momento lì. Guarda. L'amore. Credo che per me. Sia stata la mia ancora di salvezza. Nel senso che. Ho sempre riposto tutto nell'amore. Sia dal punto di vista. Certo. Sentimentale. Sia dal punto di vista di amicizia. Perché poi quando sei solo al mondo. Tendi ad attaccarti. Certo. Assolutamente. A persone. Cos'è per te l'amore? Oggi. Sì. Se domani mi chiamassero. E mi dicessero. Davide che è mio marito. Ha avuto un incidente. Ho bisogno di un cuore. Muori tu. E fai vivere lui. Dagli il tuo. Lo farei. Adesso. Senza pensarci un secondo. Questo per me è l'amore. Vuoi andare i brividi ancora? No no è vero. No no è vero. Questo non me l'ha mai risposta. Lo farei. Anche se Davide dopo la guarderà. Speriamo di no. In questo momento siamo un po' in barbaccia. Siamo un po' in crisetta. No. È bellissima quella descrizione. Ma tenendo conto tutto quello che hai vissuto. Domanda generale. Ne vissute eh. Pensavo io di essere. Io mi sento una sessanta. E tu sai niente. Ci ho detto un decimo. Sento che siamo tipo l'iceberg no? Siamo ok. E ancora niente. Molte persone alla prima o alla seconda dicono. Si mettono una croce addosso e dicono. Io sono andato così. Basta. Sono sfigato. Mi chiudo nel mio. Non vado avanti. Cos'è? Come si chiama quell'ingrediente? Che ti fa sempre andare avanti. Non percepisci il fallimento? No. Io credo che nella vita ci siano due tipi di persone. E ci nasci. Elicottero. Ti lanciano giù nell'oceano. C'è chi dice. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio. E muore. E c'è chi invece. A costo di spaccarsi le braccia. Cerca di risalire e venire fuori. E tirare primo respiro. Io credo di far parte di quella categoria di persone. Che hanno sempre bisogno di. Venire fuori e farcela. E riscattarsi dalle cose. Quindi come la chiami? Riscatto. Voglio di riscattarsi. Una cosa che tu fai senza sapere. La cazzimma. La cazzimma. Sicuramente ne hai tanta e ne hai. Quella roba lì che secondo me è vero. C'è la stessa cosa che mi è successa quando mi sono ammalata. Io sono affetta dalla sclerosi multipla. E io all'abice della mia vita. Capito? Famosetta. Televisione. Due soldini. Marito figo. Bella vita. Pam. Sedia a rotelle. Paralizzata dal collo in giù. C'è. Capisci che uno dice ma veramente ancora? Io oggi sono qua con te, cammino. E come è successa? Cioè come ti accorgi la roba del genere? Di avere la sclerosi multipla. Niente, io sportiva, facevo crossfit fisico, addominale che oggi non c'è più. Addominale giusta, fatta. Vado in palestra e perdo. Hai presente quando vai dal dentista? Che ti fa l'anestesia e se ti tocchi non senti? Sì, certo. Io da qua non sentivo più. All'improvviso. E dico ma se non sento. Io mi piantavo le forchette perché è un po' scemo, va bene. Il giorno dopo avevo un'apertura qui in azienda e ho voluto farla a tutti i costi. Ma la mattina prima di venire qui, cado come un pero proprio presente così. Faccio questa giornata, arrivo a casa e inizio a perdere le braccia. La stessa sensazione sulle braccia. Quindi Davide mi dice andiamo dal dottore, vado dal dottore, mi manda subito in pronto soccorso. Io sono entrata in pronto soccorso camminando. Dopo tre ore. Il nulla. Io non mi muovevo più. Cioè io ero paralizzata con la bava alla bocca e la testa che ballava così. È stata, credimi, una roba devastante perché quando tu sei prigioniero del tuo corpo… La mente è lucida. E la mente è lucida. Penso sia il castigo più grande che la vita ti possa dare. E quindi sono in questo letto e la gente veniva a trovarmi e piangevano. E io non riuscivo a dire niente così. Non c'erano neanche parlare? No, parlavo. Ok. Però mi hanno fatto sentire degli audio del tempo. Ah, d'accordo. Roba strana. Io avevo questa pallina da tennis dentro la testa che batteva da una parte all'altra. Quindi io facevo questo tutto il tempo con la bava alla bocca. Era una cosa bruttissima. E insomma un giorno mi portano una sedia a rotelle. E mi dicono… Allora Giorgette… Perché poi lì i neurologi sono molto capito… Giorgette, guarda, ti abbiamo portato il tuo nuovo mezzo. Ed era questa sedia per tre traplegici. Con una fascia alla testa. Cioè tipo le fibre sulle braccia. Per andare in giro. Perché io sono sempre rimasta a letto. Quindi è arrivato Davide e mi è venuto a prendere. Mi ho portato al bar dell'ospedale con questa sedia. E c'erano i fan tipo che passavano. Ciao Giorgette! E lui mi teneva per la testa così. Ho pianto. Per la prima volta nella mia vita. Infatti piangi. Per ventiquattro ore ininterrottamente. Io ho pianto tutto il cazzo di giorno. Credimi. Non mi è mai successo in vita vita. Io non smettevo di piangere. Scendevano. E anche mentre dormivo mi scendevano le lacrime. E ho sofferto come un cane. La mattina dopo mi sveglio e sento in corridoio. I dottori che parlano e dicono Letto 27-3 sospetta SLA. Tu sai che cos'è la SLA? Sì. Io avevo, mi ricordo come se fosse oggi, sopra il letto. Quel triangolo che ti danno quando sei in ortopedia per tirarti su. E ho studiato tutta la notte come fare per impiccarmi con quel triangolo. Io volevo morire. Volevo ammazzarmi. Ma non ci arrivavo. Non riuscivo. Perché non avevo modo di muovermi. e più lo guardavo e più dicevo che c'era di voi. Mi impicco e muoio qua stanotte. Perché... Ma non per me. Ma perché io non volevo dare un dolore a mio marito. Non volevo dare un dolore alle persone vicino a me di dover passare la vita a spingermi su una carrozzina per poi sapere che avrei dovuto morire. E non sono riuscita a farlo. Una mattina dopo è arrivato questo infermiere. Mi ha preso il peso. Mi ha portato in bagno. Mi ha buttato dentro una doccia e mi ha detto tu hai i coglioni. Tirali fuori. Testa e cuore positivi. E adesso stai qua. E ti tiri su da sola. Io sono rimasta in quel bagno ore. Seduta. Nuda. Così. Finché ho mosso un dito. E quindi ho capito che avrei potuto farcela. Io sono riuscita a fare questo. Wow. E da lì io tutte le notti, tutte le mattine fecevo gli esercizi con la testa per cercare di muovermi. E ce l'ho fatta. Quanto è durata? Allora io sono tornata a camminare dopo 4-5 mesi. Un' eternità. È pochissimo. Sì ma la notte? Sì è lunga. È stata lunga. Però ancora oggi i neurologi, quando vado a fare le visite perché io sono costretta, sono una malattia dalla quale non si guarisce andare spesso in ospedale, mi dicono che hanno studiato il mio caso perché è impossibile. Non l'avrei mai detto. Non te ne accorgi. Non posso accorgere. Guarda che quando vado al centrosclerosi a fare le terapie mi guardano tutti come se fosse male. Tipo vo che hai presente. Vo, 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 vo. Sono tutti così. Ma veramente? Ma tu sei malata. C'è qualcosa che non fa. E ti giuro che quando vado mi tiro anche come una scoreggia. Cioè proprio io vado dentro al centrosclerosi con il cappello sbolezzante, col gatto finto. Buongiorno a tutti. Viva la vita. Sì. Però tu parlavi, dicevi delle cose incredibili che poche volte nella vita riesci ad ascoltare un tipo di storia del genere, no? E ride. Ma che cazzo ride? Mi viene da dire, no brava, infatti. Guardami. Mi viene da dire, perché cazzo mi lamento per delle minchiate? e qua ci sono persone che veramente… Grazie. E cazzo. Dicono le parolacce. Nel senso… Che bello. Eh sì. È una cosa bella. Perché a me qual è l'errore che fanno le persone che guardano quello che è stato? Oh povera me, malato. No. Guardami. Sono qui con te. Cioè voglio dire, ho le gambe accavallate. Guarda che credimi che ho scoperto che il corpo umano è una macchina devastante. Tu adesso hai fatto questo. Sì. Io ho passato un anno con la testa a decidere di fare questo. Perché tutto quello che noi facciamo e diamo per scontato, com'è questo. Sì. Il nostro cervello che ce lo fa fare. E se tu non ti concentri non lo puoi fare. Io ho passato anni a dovermi concentrare. Se no, forse è un paio d'anni che riesco a tirare su le braccia bene. E tu lo dai per scontato. Perché tu ti appendi all'autobus tranquillamente. Io non lo potevo fare. A certe volte finché non perdi le cose non riesci a apprezzarle. No, infatti. Sì. Ma... Io adesso sono grata. Mi raccomando la vita. Ok. E... Infatti mentre parlavi mi dicevo ma... Non ti vedi... Non vedo una persona come te piangere. Infatti mi hai risposto lì che pianto per 24 ore. Forse in 24 ore hai pianto tutte le lacrime che dovevi piangere. No, ho pianto anche il giorno del mio matrimonio. Ah, due! Il giorno del mio matrimonio ho pianto tutto il tempo. Ho fatto un matrimonio che poi è andato in onda su real time. E quindi l'aspettativa era molto alta e in realtà a me non me ne fregava niente di quello che era ma... Semplicemente del fatto che ero riuscita a mettere il mio vestito e i miei tacchi. Io sono arrivata all'altare in tacchi, baby. E quindi io pianto tutte le lacrime che avevo in corpo. Se tu guardi il video in tv, ho queste righe perché la truccatrice cercava sempre di camufrare e io piangevo perché quel giorno io ho buttato fuori tutto. Cos'era per te il matrimonio? O forse era un'apoteosi tra matrimonio, rinascita... La rinascita. Tutto insieme vero? Sì. Cioè un nuovo inizio? Sì. Sì, sì. Momento più di gioia della tua vita? Eh beh... La nascita di sole. Mia figlia. Quando? L'21 marzo del 2023. 2022 scusami, scusami, scusami. Ok, va bene. Ucciola... Adesso? Piccolina, sì. Amore. Anche lei arriva da un percorso devastante perché ho dovuto fare un percorso di PMA, devo dire fecondazione assistita. Ok. Però ovviamente secondo te io posso farlo come le persone normali e certo che no, devo soffrire come un cane, capito? Perché è stata la sofferenza più grande della mia vita, credo. Ho sofferto le penne dell'inferno, ma io glielo dirò eh, quando lei capirà. Bambina, guarda che la tua mamma ha patito l'anima. Ho sofferto tanto. Con una malattia del genere? Infatti, allora, cosa succede? Che mi dicono che io non avrei mai tutto avere una bambina per il tipo di malattia che avevo, per il tipo di esordio e soprattutto per il tipo di terapia che io faccio per questa malattia. secondo te? Tu puoi dirmi di no? Come sta? Che errore che hanno fatto! Secondo te? Tu puoi dirmi di no? Quindi ho rotto le scatole, mi sono autoassunta la mia responsabilità, ho firmato delle carte dove ho accettato di… allora ti spiego, il mio farmaco non era compatibile, quindi ho dovuto fare un anno senza farmaco salvavita per farlo uscire dal mio corpo. Cosa rischi? Di finire in sedia di rotelle. Ok. Quindi tu eri disposta a perdere… Certo. Ok. Un anno, mia responsabilità. Poi inizi un farmaco compatibile, nel mio caso si chiama interferone, ed è un farmaco che va iniettato sotto pelle un giorno sì e uno no, ti fai la puntura. Ha degli effetti collaterali devastanti, ma che colpiscono una persona su mille. Chi è la persona? Ci sono 100 liti, ovviamente. Ok. Non lo sapevi. Quindi, facevo queste punture, il dolore che tu provi è un misto di una chemioterapia, quindi febbre a 40, dolori, vertigini, incapacità di… cioè, proprio è devastante. Io piangevo. Lì ho pianto tanto, veramente. E quando tu te lo fai, stai male, poi hai un giorno… e poi potevi rifarlo. Ma l'hai ancora? E l'ho fatto per sei mesi. Insieme a tutte le punture per la PMA, quindi stimolazioni piuttosto che… E la prima volta è andata male, mio marito mi ha detto basta, finita, non puoi andare contro natura. Tu stai andando contro natura e la natura ha deciso che tu non puoi essere madre. Ancora una volta ti è andato che non potevi. Non devi farlo. Secondo te? Avevo già prenotato in un altro centro. E tutto era avverso, riserva ovarica, adesso ti parlo di queste cose e tu non puoi capire. Comunque non c'erano grandi prospettive, ok? Ho fatto un percorso, ho durato un anno insieme di cose. Alla fine di tutto questo percorso una persona generalmente riesce a ricavare degli ovuli che vanno dai 10, 20… Uno. Uno solo. One shot, one kill. La dottoressa mi ha detto, cioè certo, non c'è speranza, di solito ne mettiamo molti di più, però se vuoi provare, proviamo. Arrivo il giorno del… perché la trasferiscono e mi dicono il tuo… la tua blastocisti si chiama, noi nasciamo come blastocisti, siamo degli embrioni, dentro al vetrino si è spans, cosa vuol dire? che è già fuori uscita dalle cellule ed è una cosa che di solito noi facciamo quando ci attacchiamo all'utero. e quindi mi dicono noi se vuoi ti facciamo un trasferimento ma… non sarà. non sarà, è a casa. E fa i disastri, quindi una su un milione ce l'ho fatta. Lei sta bene? Sta bene. È una bambina strepitosa. Condenata? Il 21 marzo. No, come sei sentita con quel momento lì? Ho capito… 9 mesi te la racconti, no? Ho capito cosa vuol dire avere una famiglia. Quest'anno festeggerò il mio primo Natale, anche l'anno scorso è stato più misero, però io non ho mai festeggiato il Natale perché quando non hai una famiglia tu ti invitano i tuoi amici e tu stai lì a rosicare perché la madre versa il vino al padre e tu non ce li hai. Certo. Quest'anno non sarà diverso. Il tuo più grande sogno ad oggi? Che le persone intorno a me possono avere un futuro degno. Io tutto quello che faccio non lo faccio quasi mai per me, lo faccio sempre per gli altri. Anche il fatto di ritornare a camminare l'ho fatto per Davide perché quando andavamo nei ristoranti in sedia a rotelle mi vergognavo per lui. Mi dava fastidio che la gente lo guardava come per dire che figo quello lì, una sola sedia a rotelle. E quindi sono tornata a camminare e tutto quello che faccio lo faccio per gli altri. Quindi oggi mi auguro che il mio staff abbia un futuro roseo. Mi auguro che le persone che lavorano per me possono essere gratificate, che mia figlia abbia il successo più successo del mondo e che le persone siano felici. Avevo notato che se una persona altruista, anche io penso di essere una persona altruista, io sto bene quando gli altri stanno bene. Io posso anche essere a zero tutti i giorni, la volta che le persone attorno a me stanno bene, crescono. Ma sempre questo senso di responsabilità, no? Ma infame, che poi infame. E' fastidiosissimo, perché a volte per essere un po' piccini si strabbe meglio. Non ho il dna, non ce la faccio proprio io. Si chiede, non ce la faccio. Piuttosto lo prendo nel culo, detto bene in francese, ok? Ma io sono fatto così, non riesco a cambiare questo tipo di natura. Mi fa star bene dare, mi fa star bene vedere gli altri che stanno bene. Sì, sempre me bianco. Esatto, esatto. Gallo in questo momento, ok. Quello è, allora, tu mi hai detto che vogliamo lanciare un messaggio. Uno dei messaggi che voglio lanciare è che tutte le persone vivono ogni giorno nel mondo, sono persone insicure, persone che pensano di essere inutili, cose che hai vissuto credo anche tu. Certo. In quei momenti della vita nella quale quei pensieri infami arrivano e ci dicono delle cose, qual è il consiglio che tu dai? Cosa devo fare? Guarda, io non do nessun consiglio. Cosa che hai fatto tu? Io l'unica cosa che dico è ricordatevi che non è vero il detto che se nasci tondo, muori tondo. Puoi anche morire quadrato, anche trapezio, ma ci devi credere. Credici. Sempre. Ed è proprio quando tu non vedi quel lumino. È il stesso discorso che ti facevo prima di cadere nell'oceano. Devi tirarla fuori. È solo quella, non c'è nessuna strada, perché nessuna strada è giusta. Io ho sbagliato mille volte, ho sbattuto la faccia mille volte, però non ho mai perso di vista quel lumino lontano che volevo vedere. L'ultima domanda quando andiamo in chiusura, purtroppo sono stare qua, non ho detto il giorno. Torni indietro e potessi avere qua il tuo papà e la tua mamma. Cosa diresti e cosa faresti? Li abbraccerei e direi loro che ce l'ho fatta. E non useresti papà. Ti ringrazio e chiudo qui, perché siamo di un'ora di corsa dopo per smaltire questo podcast. Voglio ringraziare chi ha permesso oggi di averti conosciuto. È stata un'esperienza incredibile. Ma meno male. Te lo dico cuore aperto. E dico sempre, se solo una persona che ascolta, guarda, vede il podcast, noi lo motiviamo, gli diamo un punto di vista diverso, gli diamo quella forza lì, noi siamo ricchi. Perché la ricchezza non è una questione di soldi, ma è una ricchezza di quanto tu riesci a dare agli altri. Questo è ciò che penso io. Mi piace questa chiusura, delicata ma efficace. È vero. È vero. Grazie ancora per condividere il tuo tempo per stare con me. Grazie a voi.